Le ragazze Amaranto, allenate da mister Emiliano Testini, sono attese dal secondo impegno ufficiale della stagione. L'Arezzo Calcio Femminile, domenica 19 settembre, affronterà il Ponte d'Era per la seconda giornata del girone 9 della fase eliminatoria di Coppa Italia di Serie C. Il match si disputerà al campo sportivo Luciano Giunti con fischio d'inizio alle 15. Le Amaranto sono reduci della convincente vittoria per 5-0 contro la Pistoiese, mentre il Ponte d'Era è stato sconfitto per 2-0 dalla Lucchese. Nessun precedente tra le due formazioni nella scorsa stagione perché il Ponte d'Era era impegnato nel campionato di Serie B. Sarà consentito l'ingresso contingentato in tribuna solo ai possessori di Green Pass, oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di Covid, dunque indossando la mascherina e rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.